E' d'alta voce! E' d'alta voce! Allora, una vita come una favola. E tutte le parole? Mi faccio lavorare ora che sono in pensione. Montagna, museo, lago, emozioni della strada, castello, oceano, paesaggi coloratissimi, deserto, storia, alberghi, tempo, foresta, il fiume, le emozioni della strada. Poi, natura, arte. Ma non ha capito. E' un buono per un viaggio aperto. E poi, Barbara, è un buono per un viaggio dove vuoi, come vuoi. Buone avventure nel mondo. Barbara, sei buona. Oh, eh! E' un buono mistico del mio... Cioè, fuck! Ed è oggi. E' oggi. Io ci credo, lei. Barbara, finalmente è l'Amazzonia. L'Amazzonia. Chissà, un neghier. Dovunque. Un neghier. Un neghier, certo. Un neghier, dovunque. Dovunque. Bellissimo. Un neghier. E' la Sicilia. Assolutamente. E' la Sicilia. E' la Sicilia. E' la Sicilia. Cioè, vai. Brada. E' la Sicilia è troppo bella. Camperino. Tutta per scoprire. Camperino. E' un... E' un... E' un... E' un... E' un... E' praticamente... Un continente. Camperino.